Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sono in corso di accertamento le cause del rogo che ieri pomeriggio, poco prima delle 17.30, lungo la strada provinciale 8 del Salinello nel comune di Santomero, si è sviluppato dal cassone di un camion in transito che trasportava rifiuti ferrosi. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, con un'autopompa e un'autobotta inviata sul posto dal comando di Teramo, è intervenuta lungo la bonifica del Salinello per domare l'incendio, che per fortuna non ha provocato feriti. L'autista del mezzo pesante, accortosi che dal cassone di carico stavo uscendo del fumo, ha parcheggiato il camion sul bordo della carreggiata e ha tentato di spegnere l'incendio con un estintore portatile, senza però riuscirci. I vigili del fuoco hanno utilizzato i getti degli idranti per raggiungere le parti incendiate di un macchinario da smaltire interessato dall'incendio, riuscendo a contenere le fiamme e ad evitare alla motrice danni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Bellante per regolare la viabilità lungo la strada provinciale, dove il transito è stato mantenuto a senso unico alternato. Ovviamente si sono vissuti attimi di paura da parte degli automobilisti, sorpresi dal rogo visibile a distanza.